Ciao a tutti ragazzi sono Gabriel Dimenio e in questo video vi racconto che praticamente secondo secondo proprio detto mythos che da volte negativa adesso appora tutto a caso il film di Ferdis è apprezzato dal pubblico ma non dai sensori lo stesso speriamo che tutto va bene quindi pare che in poche parole il film per molta gente è bello pensi solo il brutto quindi non so cosa dire ciao